No, no, non riprendere, che c'ho uno in camerino. Dai, dai, vedi, veloce, vedi, veloce, dai, se no ti vedono, se no ti vedono. Ciao. Mi ha analiso Scarlone. Mi sapevo una finestra tra le stelle. Ma chi ti ha scritto questa canzone qua? Tu, bravo, mi hanno detto. Lui, ha scritto lui. Ragazzi, analisa di un tannoso concerto. Bellissima, meravigliissima e bellissima. Più bella di Totti anche, direi. Ciao, capitano, ti voglio dire. Non lo so. Dio la verità, stasera, cosa ci canterai stasera? Io niente, io sono venuta a vedere, vado a sedere, sono felicissima. Va bene, salutiamo analisa Scarlone, ragazzi, sempre le nostre uguali. Buon concerto, spacca tutto, come sempre. Sempre, sempre. Quattro minuti. Canta memoli stasera, ragazzi. Grazie.